Una tecnica tristemente collaudata è andata a segno ad Andrea, dove un'anziana donna è stata truffata da un gruppo su cui indaga la polizia di stato. Bottino importante, quello recuperato dai malfattori che hanno contattato la donna a 76 anni ieri mattina a casa, sfruttando l'assenza di suo marito e riferendo che l'uomo avrebbe causato un incidente investendo una donna con bambino. Per questa ragione c'era bisogno di una somma importante per evitare il processo. A quel punto la donna avrebbe consegnato ad un giovane emissario denaro e monili per arrivare alla cifra necessaria. Rientrato a casa suo marito è stata chiara la truffa subita e la chiamata immediata alla polizia di stato. Tra le altre cose per la donna anziana è stato necessario anche l'intervento di un'equipe sanitaria del 118 di Andrea per un malore. Al lavoro ora ci sono gli inquirenti che sono però già sulle tracce della banda.